ciao 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 berlo come stai? benissimo e tu? bene bene dai! perfetto buona siamo arrivati salutate ragazzi adesso andiamo a fare un po' di avanti e indietro su queste stradine di merda aspettando forse altre due persone o tre che dovrebbero arrivare vai vai di me volete che mi faccia la palletta che la non ha? fatta fatta non so fare le partenze vai vai non importa li prendi tanto da un po' eh la partenza c'era un secondo sparetto dai insieme a me marco l'ultima oh di poco oh l'ha preso eh no no scherzo bello tasca guarda io per niente vedi rs 25 Sì, Dio! E l'altro è partito male Ora stanno prendendo la loro via E ci abbandonano qui Eccolo Grip A, basta Basta Finito Eccola Ecco il boss Eccolo 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 Eccolo